Oggi abbiamo finito la live, però volevo fare 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti per ringraziare i 60 abbonamenti anche se non abbiamo fatto il gol. Ora devo beccare fragoline immediatamente, che diciamo un po' quella che mi sta dando una mano nel locale, a oggi, a oggi, è today. No, 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 possibile, possibile, civile. Pronto? E buonasera ed auguri. Buonasera, buonasera. Auguri, fragoline. Auguri. Auguri di cosa? Beh, è sempre la festa per le donne, no? Dicono. Oh, ma dove sei, fragoline? Ok, in pizzeria. Ma mi riesci a passare a prendere che sono senza un'auto a casa? Così ti faccio vedere pure a casa. Certo, dimmi il civico. 838. Arrivo. E mo' mi fai capire pure a chiesa. E mo' E lo copino. Ho capito, ne ho fatto, erano ringraziati quelli del cerbero, ragazzi. La trappola. Nel lo copino. La marmellata. Le mani nella marmellata del loco. Adesso mi metto nudo e l'aspetto in casa. Mi sono appena svegliato. Ma che si faceva, raga? Y. E' loco. Con l'occhiale. Anzi, in piscina, in piscina, in piscina mi metto. Però che pare dovrò averne anche tipo uno stereo qua che posso mettere le canzoni. Ma c'è la possibilità, raga? C'è mia in chat? Vabbè, però non può far metagame, signora mia, scusi, eh. Lui sta cercando un attimo... Poi non ho fatto niente, ma che cazzo volete? Scusate, eh. Sto pensando a mia. La giornata di ieri. Che alla fine comunque noi uomini siamo un po' come tutti come il loco Pino. Che alla fine c'è un momento nella tua giornata che ragiona il tuo cazzo. E tu non ci puoi fare niente, eh. Cioè tu sai che è una stronzata, sai che poi quando è Iaculi ti penti, però in quel momento lì, compa, oh. Il mastazzolo, diciamo che è. Ha in quel momento lì un pochino... Cioè ragiona lui, sceglie lui cosa deve fare. Comunque dobbiamo organizzare. Mo' ci siamo messi a fare la domenica. Secondo me adesso bisogna che iniziamo a organizzare anche un calcetto un altro giorno. Ma che si fa in mutande? Eh, ero in piscina, vuoi venire un attimo? Non l'hai mai vista a casa mia? No. Vieni, vieni che ti faccio vedere. Vuoi metterla dentro il garage, la macchina? No, no, lasciala pure l'anti, preoccupate. Vuoi qualcosa da bere? Eh, no, grazie, sono a posto. Per fortuna, io non so come cazzo si fa. Quanto bella la vista da fa. Ti piace? Eh, me la sono presa perché c'è pure il campo da calcio che mi vorrei fare una squadra di calcio, lo sai? Ma tu sei fidanzata, Frago Lì? No, in realtà mi sarei dovuta sposare stasera. Azzo, e cosa non è andato bene? Ehm... Boh, quello è tutto strano. Lui vuole le relazioni monotone, non sa scherzare, fa roba di nascosto, non lo so. Ma che il tuo ex è quello che diciamo? Sì. E come si chiama? Si chiama Isaac, c'era ieri sera, era lì con una tipa sulle spalle a farmi ingelosire. Ah, e tu perché non lo fai ingelosire anche tu, scusa? Non sono tipa da queste cose. Eh, ho capito, ma guarda che l'uomo è così, eh. Quando c'ha il coso che hai perso, l'hai persa, poi ti innamori. Comunque, dobbiamo andare al locale, andiamo al locale. Allora, devo cucinare bene. C'è un mezzo di gente al locale. Eh, andiamo, 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 dai. Vabbè, vediamo le robe del locale, vabbè, se no qua con Wall che si vanno a fare sparatorie. Ma è successo qualcosa qua? Le ho già scritte tutte all'architetto. Ah, le hai già scritte tutte? Sì, ho già fatto tutto io. Però io c'ho un altro paio di idee, vieni qui, guarda. Così le diciamo una volta per tutte. Cioè, a me, sto albero qua, con tutto sto ingresso qua, mi pare proprio un'opportunità persa. Dovremmo studiarci qualcosa da fare qua. Tipo? Eh, non lo so, o mettere il coso del concertino, sai quello che abbiamo dentro? E dentro abbiamo il palco con il microfono qua fuori. Sì. Oppure mettere tipo un gelataio che fa gelati da sporto. Cioè, ci serve qualcosa. O delle luci anche per fare un attimo vedere che c'è qualcosa, no? Oh, ce ne vogliono di luci, cavolo. Andiamo a vedere, mazzo. Il bar non si vede, la console non si vede. Eh, quello lo so, eh, lo so, lo so, lo so, lo so. Non mi infiedi. Ma voglio vedere se ce l'ho in garage. Allora, ma c'è la musica, mo. Ma che è sta musica qua? Scusami, Max. Ciao, l'ha messa Samuele prima. L'hai messa tu, Fragolino, bellissima. Chi è? Qua i muri neri sono un po' di scegliere. Ah, Samuele. Hai capato i muri neri qua. Eh, l'architetto. Oh. Eh, c'è la porta giù, per andare giù, diciamo, nei privè, che è rotta. Devi dire all'architetto che se puoi riparare non si chiude. Quale è rotta? Questa qua. Ah, è vero, questa qua dietro non si chiude, ma... Ma ragazzi, scusatemi un secondo, sono contento che ci siamo tutti e tre, eh. Questa qua non si chiude, eh. No, la gente va giù, continuazione, non sappiamo come bloccarli, capito? Eh, ho capito, ragazzi, ma dobbiamo fare, allora, una nota del telefono con tutte le robe, aspetta, eh. Eccolo qua. Comunque, ragazzi, è proprio bello qua, eh. Sì, molto. Peccato per questo albero qua, se lo tolgo, speriamo bene. Ah, c'è il bar? Sì, 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 l'enfo. Sì, finalmente possiamo avere accesso, così portiamo la roba un po' su, quando ci sono gli eventi. Anche perché ieri ce l'avevo tutto in tasca. Cioè, praticamente ieri portavamo la roba a mano? Sì, sì. E per quello che il servizio non era, diciamo, fantastico. Eh, vabbè, raga, lo mettiamo a posto, che problema c'è? Sì, sì, sì. Ma ieri quanto abbiamo incassato, Max? Alla pizzeria. Non tanto, però, insomma, dobbiamo sentire... Però abbiamo fatto tantissima pubblicità. Eh, secondo me abbiamo fatto pubblic... Comunque, sta domenica bisogna ripeterla, sta cosa qua, eh, ragazzi, mi raccomando. Sì, assolutamente sì. Però ci vorrebbero più ballerine, Fragolini, ma ti hanno dato il pacco qualcuno ieri, eh? Eh, no, sì, troppe. Ma perché a luna di notte è difficile che ci sia gente, soprattutto la domenica, perché poi le persone a lunedì lavorano. Poverini, mi dispiace per loro, cazzaronna, è una cosa bruttissima lavorare, eh. Esatto, sono d'accordo. Fragolini, ma comunque devo presentare Mimmo, eh, mio fratello. Secondo me tu ci andresti d'accordo, lo conosci a Mimmo? No. Eh, forse è la tv di vicino alla piscina. Eh, no, te lo devo fare, mamma, ti lascio il contatto di Mimmo. Ok. Diciamo che sarebbe meglio, chiedi, eh, Pino, un grande schermo più che quattro piccoli. Eh, ma non c'è il grande schermo, sgrana, compa. Non c'è, non c'è. Vabbè, questo dobbiamo fare. Eh, ragazzi, ma io domani sera ci potrei essere alle 10, cosa potremmo organizzare al volo così? O c'è già una festa? No, eh, oddio, no, oggi ci sono due eventi, domani non c'è niente. Ah, e ti volevo chiedere, in alcuni locali, a fianco alla console, da un lato e dall'altro, ci sono tipo due mini palchi per le ballerine. Si possono mettere qua? Non ho capito, cos'è che volevi fare, scusa? Ti possono aggiungere due mini palchi ai due lati della console, così le ballerine ballano sopra. Ah, e scriviamolo nelle... Ma vuoi due cubi? Sì, due cubi ai lati della console per le ballerine. Buonidio. Vuoi che ci mettiamo anche i pali? O no, niente pali? Eh, no, perché non si possono usare poi. Eh, Max, Fragolina, se tirate fuori il telefono ve la condivido anche noi, la nota, così ce l'abbiamo tutti. E poi ragazzi dovremmo fare comunque un cazzo di preziario, non so se tu, Fragolina, l'hai fatto per i privé, per le... Io ho qua quello del vanilla, che è quello che usano tutti. Fai vedere come... Ma non riusciamo a fargli concorrenza ammazzandogli il... cioè, uscendo a un prezzo minore? Eh, sì, loro prendono tipo 20.000 per 5 minuti. Potremmo fare 15.000. Ciao, ciao, ciao. Oh, Walker! Minchia, ma quanto cazzo sei fresco così, Walker? Alla madonna! Minchia, guardi, dico la verità, il cappello stona un attimo, se posso essere sincero. Fa parte della famiglia mia. Ma non puoi fare, non c'è la versione bianca, di sto cappello. Bianco. È bianco un po'... Sostiamo a parlare. E andiamo tutti insieme a Lux, che parliamo là? Minuccio, pinuccio. No, 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 devo parlare proprio con Walker. Ah, vabbè, vabbè, vai, Walker. Dai, che dopo devo andare a Lux. Ciao, ragazzi. 5, 4, 6. Oio, che? Figgi, ha sbundo sta magra. Minchia. Vabbè, ragazzi, gli ho rovinato un po' la macchina. Adesso fa tutto sto burdello, non mi pare il caso. Che si è fatto? Dimmi tu, che si è fatto? Niente, per dire. Questo qua è Lux. Oh, che è un trippin che... Ah, madonna, che è successo? Sono tornato in vita. Minchia, è entrato dentro una finestra a spazio temporale. Ti scanno come un cane. Ti scanno come un cane. Ah, si è portato, non c'ho colpi. Ah, madonna, e che so? E che so, compà, paltrinieri. Ma, madonna. Ah, madonna. Ma dove cazzo è sto posto locale qua? Non ho capito, compà. Ah, non fa il notatore o fa il trinieri? Eh, vabbè, ma, comunque... Ho perso pure la macchina. Walker, Walker, m'hanno rapinato, Walker. M'hanno rubato la macchina, m'hanno rapinato un casino, Fra. Come t'hanno rapinato? M'hanno rapinato, sono al 546. Una signora. Ti posso apprendere, dai. Grazie, grazie mille, fratello. Mi devo far trovare per terra, ragazzi. Come faccio? Per terra? Come si fa per terra? F5. No. Rived? Zedè? Ah, madonna. Proprio... Cry? Pass out. Oh, raga, mettetevi da colpo. Pass. Non mi spieghi che è successo. No. Walker, ti chiedo scusa, Walker. Mi hanno rubato la macchina, mi hanno rubato. Oh, te no. Faccio lì. Sì? Senti, prego, mi chiedeva stasera che torno di nuovo. Ragazzi, mi hanno... Eh, mi hanno dato una botta alla schiena. Ti dico, mi hanno fatto andare... Guarda, non vedi come sto? Non riesco a muovermi, raga. Guarda, te, è 9 che torna tu nonno. Mi fa un male, ma penso che mi hanno spezzato una costola. Ma che cazzo è stato? Ragazzi, sto malissimo. Un massaggino? Non so se Fra Colina può fare... Ragazzi, prendi il telefono. Continua a prendere la posizione della macchina. Prendi la mia e vai a riprendersi la macchina. Ragazzi, non mi riesco a muovere, ragazzi. C'ho una fitta... Non so fare massaggi. E vai a inventare qualcosa. Scusa, ma guarda come sta. Un massaggino, Fra Colina. Ah, madonna. Già, ah, madonna. Piano, 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 piano. Ah, già sto bene. A posto. Fra Colina, grazie. Niente. Oh, ragazzi, ma dov'è il locale quello là? Sto qua dietro. No, ma sto qua dietro. Ah, vabbè, vabbè. Vi prendo che uso questa qua, che l'ho trovata qua. Fra Colina non è facile, eh. Cliente tosto, eh. Eccoci qua. Ma perché corrono tutte le donne qua, Walker? Che cazzo c'hanno? Vanno di fretta, non so se dove vanno. Ma Fra Colina è sportiva, che tu sappia? Secondo me sì. Oh, mi sono messo con me, eh, compaglieri. Ah, meno male, dai, sono contento. Oh, però, Walker, mi raccomando, non gli fa fare robe che rischia di morire, eh, per favore. No, tranquillo. E scendi. Pronto. Vabbè, tiro fuori il telefono anch'io. È luxo, è luxo. Ah, no, 5, 4, 7. Sto qua. Allora, vieni, vieni. Buonasera, Pulcetta. E dove sei? Ma che fosse calda. Ti sbondereti, mi guarda veramente. Ma come? Appinuccio, ma io t'ho chiamato per farti le congratulazioni. Per cosa? Ma questa che ti sei fidanzato. Ah, ci sei cascato. Era un tranello, era un tranello. Lo so, lo so, ti ringrazio. Era un tranello? No, Nicola, la risposta era troll, dico. Niente di serio, comunque, eh. Niente di serio. Cioè, stiamo iniziando a stare insieme, vediamo come va. La conosci tu, Mia? No, no, non la conosco. Non so chi è. Ho detto, boh, ho visto che ti sei fidanzato. Ah, sei stata molto gentile. Eh, sì, ma volevo farti gli auguri. Mai mettere queste cose sui social. Mi sono andata, poi non ci siamo che sentiti. Io me ne sono andata, mi sono rotta i coglioni, quindi me ne sono andata. Ah, eh, vabbè. Ma tu sei fidanzata? No. E come mai? Sono libera, come l'aria. Ah, eh. Eh, perché non trovo chi me sa prende, capito? Eh, vabbè, ma vedrai che lo troverai. Oh, ma comunque ti devo parlare poi di una cosa. Riesci a passare martedì sera in pizzeria? Martedì sera? Sì. Dopo le 10? Dopo le 10 sono in pizzeria. Passi? Eh, prima? Che poi lavoro al Vanilla, io alle 10. Eh, magari allora ti vengo a trovare io al Vanilla. Va bene, va bene. Dai, che così porto anche i ragazzi che così si divertono un po', che sono stati bene. Però, scusami un attimo, Jessica, io ti riporto i ragazzi. Però io non posso spendere 250 euro per fare un trivay a tre persone con quanto d'ora. Allora, visto che tu l'altra volta comunque hai speso tanto, ovviamente ci sarà un piccolo sconto. Eh, capito. Anche perché io sono il capo che mi ha sottopagato, che mi ha dato la paga, ma mi ha sottopagato a sto stronzo. Quanto prendi? Quanto prendili? Eh, dovevo prendere 400 mila, ho preso 250 mila. E se? Mi ha sottopagato a sto pezzo di merda, neanche alla moto mi posso piastro. Ma perché non viene a lavorare da me che ho due prive scuse, anziché stare con quelli di scusa? Ma io posso sempre lavorare con te insieme a Lola, non so, come si dice, legami. Tu quanto prendi? Quanto prendi per 5? Mi riesci a mandare un messaggio col preziario e io ti dico che se me lo mandi e io verifico che è vero, io ti do il doppio dei soldi che ti danno lì, a prive, il doppio, a te e a Lola, tutte e due. Va bene, cioè, tanto te l'ho detto anche a voi, senza problema. Quanto prendi? Quanto prendi per un prive di 5 minuti, tu? Allora, 5 minuti sono 20 mila. Però io prenderei il 50%, solo che non mi dà il 50%. Quindi quanto prendi, in realtà? Su 20 mila dovrei prendere 10 mila, no? 5 minuti. 10 minuti sono 35 mila. Raga, uno che si rischia. Invece cos'era? Un quarto d'ora 45 mila. E in realtà prendi praticamente 5 mila sui 5 minuti, giusto? Sì, ma lui si è messo a parlare dei tasse, che lui deve pagare i tasse. Ma scusami attimo, Jessica, io a me non me ne frega un cazzo di questo capo qua. Mi puoi mandare un messaggio che poi me lo dimmi? Perché non posso scrivere mentre sto al telefono, posso scrivere? Ah, no, posso scrivere? Allora, aspetta un attimo. Allora. Posso scrivere? Micchia, ti ho mandato alla poesia l'altro giorno. Vai, vai, dimmi, dimmi. Dimmi, ripetimi un attimo. 5 minuti? 5 minuti sono 20 mila. 20 mila che costa al cliente, giusto? Chiasi, professionale, si sta a punta tutto. E bravo. E a te quanto va? Dicare come il mio capo. Oh, e a te quanto va di sti 20k? Oh. Oh, e a te quanto va? Quanto va invece? Eh, cosa sta? Dovrebbe andare il 50%, quindi la metà. Ok, ok, ok. Invece prendi 5 mila? Di solito un po' meno o un po' di più? Eh, guardate, dovevo prendere 400 mila, ma ho dato 250 mila. Ok, quindi diciamo che tu prendi... Cioè, ma proprio capito? Di mezzato, ma proprio di brutto. Allora, io ti posso dare il 60%. Comunque, mo' stasera ti mando Walker a parlare, va bene? Conosci Walker? O Fragolina? Oh, Jessica. Ma io Fragolina. Jessica? Jessica, ho detto qualcosa che non dovevo dire? Un po' di due parto, va? Ah, ma chi è questa? Buonasera! Ah, è tua figlia? Come stai? Eh, tutto a posto, tutto a posto. Tutto bene, tutto bene, tutto bene. Mi sta cagando un cazzo. Jessica! Oh? Mi senti? Sì, sì, comunque, ascoltami, se posso mandarti a parlare Fragolina o vieni martedì alle 10 che ci troviamo? Però vieni direttamente da me, te li faccio fare io prima. Ma che cazzo fai ancora? Allora, io ti do, almeno, io ti dico che io ti posso dare il 60%, ma è reale. Però a me piacerebbe tenerli un po' più bassi, ok? Cioè, in che senso, aspetta. Tipo, 5 minuti, 5 minuti, 15 mila e tu ti prendi il 60%, quindi ti prendi tipo 8, capito? Però te li prendi veri. Ho capito, ho capito. Io preferirei parlare però con te, perché con Fragolina, cioè, ci ho parlato, però vorrei parlare anche con te, capito? Cioè, nel senso, già che mi aveva detto che mi dava 50k, poi la serata di domenica, cioè, io ho detto che potevo trattare, però, cioè, 50k, ho capito? Su 200k. Eh, vabbè, però lei te l'ha detto perché siamo in fase di start-up. Sì, me l'ha detto, me l'ha detto, infatti lei mi ha detto, guarda. Però, scusami, è meglio una come Fragolina che ti dice A e fa A, o sentire il tuo capo che ti dice che te ne do 400 e te ne da la metà? Eh, ha capito? Ma io non sto criticando Fragolina. Te sto a dire che, cioè, volevo parlare pure con te, hai capito? Certo, certo, ma possiamo andarci a bere qualcosa comunque pure martedì e ne parliamo insieme. Va bene, dai, magari prima delle 10. Io alle 10, prima non ci sono. Ma perché cazzo devi andare al vanilla? Quanto prendi al vanilla? Anziché stare lì, ti do io i soldi per venire a parlare con loro. Vabbè, vorrei dire che inizierò a lavorare mezz'ora dopo, non è un problema. Bravo, bravo. E non ti preoccupa che te la pago io. Ci vediamo martedì. Va bene, Pinuccio. Ancora. Ti svelto, Pinuccio, nel salutare. Ma scusami, ma tu sei Cameron? Io sì, esatto. Oh, Cameron, piacere, no. Eh, scusami, sono germofobico. Tutto a posto, tutto a posto. Tranquillo, tranquillo. Ah, questo è il locale? Questo è il locale, sì. Se vuoi ti faccio fare un tour del locale. Vai, 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 vai. Walker, vieni con noi? Sì, sì. Oh, eh, Fragoletti, stavo dicendo. Eh, che prezzi t'ha fatto? Allora, lei mi ha detto che loro prendono 15k, 5 minuti, e lei tiene il 50% di danno. E noi gli possiamo dare il 60. Cioè, scusami, 20k, 5 minuti? Ma lei lascerebbe il vanilla per venire a lavorare full? Ma ti dico che io gli ho detto, perché lei ce l'ha con te, perché tu gli hai detto che prendevano troppo. Invece dove stanno lei? Gli hanno offerto di più, ma poi la pagano la metà alla fine. Secondo me è meglio di offrire come, diciamo, la cifra giusta e che poi tieni la parola, capito? Comunque, martedì viene da noi, martedì sera, alle 10. Posso dire che il fatto che ci ho chiesto 200.000 dollari per un'ora una serata mi ha proprio dato passaggio. Ho capito, ma questa ha visto la terrazza, calabresa, ha pensato, queste devono pulire i soldi, l'ha provata, mo' la mettiamo a posto. Camerone. Volevo farti vedere anche la suite sopra. Ah, fammela vedere, vai vai, vai, che sono curioso. Ciao Lola. Stai combinando? Ciao Pino, come stai? Molto bene Lola, molto bene. Mi fa piacere, mi fa piacere. Ti vedo, stai molto bene Lola con questo vestito total black. E' questo, un po' più serio, capi? Ma tu sei fidanzata Lola? Io? Eh. Sì, sì, fidanzata con me stessa. Meno male che c'è l'ascensore. Ecco, qui puoi fare tutte le feste che vuoi, private, diciamo proprio qua, non ci vede nessuno. Ma bellissimo sto posto qua, ma l'affitate? Certo. Ah, c'è la porta automata? Yeah, madonna, non ti ha fatti i soldi, cara. Non ti ha fatto tutta la vista con la jacuzzi. Hai capito a fragolino, eh? Fragolino. Ti piace a Coca-Cola a ti, eh, Fragolino? Dai, ci ha fatto due bribe qua sopra. Bellissimo, ragazzi. Bellissimo. Eh, sì. Sì, sì. Ma sei mai buttato uno da qua sopra, ragazzi? Qualcuno è caduto, sì. È caduto? È caduto per errore, per errore. Ma di dove sei tu, Cameron? Scusa. In che senso? Tu di dove sei? Dove? Di origine, di dove sei? Io sono di Los Santos. Ah, sei proprio nato qua, sei nato? Sì, sì, sono nato qua, sì. Mi spiace. Perché? È perché non hai mai visto la Calabria, compà. Eh, come? Oh, bellissimo. Vara che roba, oh. Ah, ma non. Ti piace l'anduia? Eh, certo. Minchia, oh, qua veramente. Minchia, che buona. Ma perché non ci fai mettere una cosa da golf e ti... Ma non c'è un campo da golf qua, ragazzi? Tiri le palle in testa. Dovrebbe, sì. Qua, lì. C'è il parco, lì. Eccolo. Dove? Là tutto dritto, avanti qua. C'è il campo da golf di Los Santos. Ma si può giocare o è chiuso? Non lo so. È chiuso. C'ho già provato pure io, non si può giocare quello. Non si può fare niente. Eh, vabbè, niente. E poi lì, di là, c'è abbastanza. Vabbè, oh, comunque io devo andare. Fragolici, ci sentiamo martedì, va bene? Va bene. Se no per mail. Oh, Cameron, complimenti, è veramente bellissimo. Un passo con calma che magari mi organizzo. Ragazzi, ma ve lo chiede una cosa? È anche la donna grazia molto bella. Ma voi sai, io per martedì sera dovrei portare fuori a cena una ragazza. Grazie dell'abbraccio. Se vuoi ti organizzo tutto io. Mamma mia, mamma mia. Quando mi abbracciano così lo sai che mi viene da girare, da scodinzolare. Non riesco più a stare fermo. Vuoi che ti organizzo un appuntamento romantico? Alla vado, ma con chi, con chi, Fragolici, con chi, Fragolici? E tu hai detto che devi portare una ragazza a cena fuori, te lo organizzo io. Ah, io vorrei andare a mangiare la carbonara. Ma c'è Sciscione qua come lo chef? La carbonara. E non c'è? Guarda, non saprei dove trovarti della carbonara. E cosa mi... Noi li facciamo qua, noi facciamo gli spaghetti. E che puoi organizzare, Fragolici? Boh, vi metto un tavolo a lume di candela, qualcosa di romantico. Eh, ma non potete tipo organizzare... Eh, brava, ma anche tipo su un bel palazzo all'ultimo piano. Che a me mi piacerebbe... Va bene, mi invenzo io qualcosa di figo, va bene? Te lo organizzo per domani sera, ragazzi. No, sì, però mai, Fragolici, vieni un attimo, che io e te siamo in confidenza. Vieni qua. A me piace, diciamo. Mi piacerebbe metterla a ponte mentre vedo la città, hai capito? Ok, ok. Ho qualche idea, allora. Ti ringrazio. Ci vediamo martedì, Fragolici. Oh, vedi che ora puoi prendere i soldi che vuoi al bar, eh. Mi raccomando, non stare lì a farla comunista. Spendi più che puoi per la sera di martedì, eh. Ma che spendi? Dobbiamo pensare anche all'entrata. Non puoi spendere tutto. Ma all'entrata io ce l'ho d'altro, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Vabbè, io preferisco che troviamo altri modi per guadagnare. Tipo? Tipo far pagare l'ingresso di queste cose qua, me ne devo studiare. Va bene. Devo studiarmi un metodo per rientrare. Va bene, va bene. Vado, ciao ragazzi, ci vediamo martedì. Mica, c'è ribaltato un cam, no? Vado, vado. Vado, vado. Vado, vado. Vado, vado. Tutto a posto ragazzi Non vado a far casino Era per chiuderla Aiaia Signora tutto bene? Facciamo ride a fragolina e usciamo No ma noi arriveremo a fare criminali E' che bello arrivarci col tempo raga